La Power Platform ha consentito ai nostri clienti di indirizzare delle criticità nei processi di business, per fare un esempio lo speed up di processi approvativi che coinvolgono il top management, anche attraverso soluzioni ritagliate come integrazioni con sistemi di firma digitale e app comunque ritagliate che riportano esclusivamente dei dettagli ovviamente di interesse per chi deve approvare. Ha sicuramente apportato dei benefici per quanto riguarda l'adoption delle soluzioni. Dal punto di vista dell'accesso al dato ha sicuramente permesso di avere varie modalità, per esempio in mobilità attraverso dei chatbot, attraverso delle app ritagliate e sicuramente per i nostri clienti un grande vantaggio è sicuramente per quanto riguarda l'e-sensing, un modello che permette un saving importante.